Il tutor sulla via di Moriano resta dov'è, o meglio, dov'era. L'apparecchio è stato infatti sradicato a fine giugno dai gnoti, dopo essere finito nel mirino di centinaia di automobilisti che in questi giorni si stanno vedendo recapitare a casa decine di multe, fino a 20 attesta, in gran parte riferite a infrazioni risalenti a maggio. Una pioggia di sanzioni che ha subito sollevato la mobilitazione di cittadini e residenti, che hanno raccolto e poi depositato oltre 500 firme in prefettura per chiedere alle istituzioni di rimuovere o quantomeno di rivedere la posizione e il funzionamento dell'apparecchio. Oggi il presidente della provincia, Luca Menesini, ha quindi dato una prima risposta. Il tutor di via di Moriano sarà ricollocato esattamente dov'era, anche se l'ente di Palazzo Ducale sta ora valutando di modificarne il sistema di monitoraggio della velocità, che comunque rimane a 50 km orari, ipotizzando anche un utilizzo a intermittenza dell'impianto, in modo da agire chirurgicamente sui flussi di traffico. Per andare incontro alle difficoltà di chi oggi si trova a dover pagare fino a 800 euro di sanzioni accumulate, invece, la provincia adotterà un provvedimento che consentirà agli automobilisti di pagare a rate.